Il sigillo è qui vicino, ne sono sicuro. Ma perché il Lord Mecha ha deciso di nascondere proprio qui il sigillo? Fa troppo caldo. Ecco, è esattamente sotto di noi. È nelle fosse ardenti? Non me lo dire, lì sotto farà ancora più caldo, non è vero? Lasciate fare a me, conosco questi tunnel come le mie tasche. Reef, non dimentichi qualcosa? No, perché scusa? Perché nelle fosse ardenti ci sono tantissimi Morcogon. Già, e allora? E allora, tu hai il terrore dei Morcogon. È così da sempre, da piccoli giocavamo spesso lì sotto e lui ne usciva urlando. Io non sono più un bambino, ok? Andrò lì sotto da solo. E non è vero che ho paura dei Morcogon. Eccolo lì, è il sigillo. Dobbiamo solo attivarlo? Così poi possiamo andarcene. Non che non mi piaccia, qui mi piace. È forte e non fa paura per niente. Oh, oh. Grande, io pensavo non potessi andare peggio. E ora al posto del pavimento c'è la lava. Riff, vincerò io! Sono più veloce del vento! Eh? Aaron, ti avevo detto di restare con gli altri. Questo è l'ultimo sigillo della mia missione e voglio trovarlo da solo. Questo ragazzo deve rilassarsi un po', altrimenti esploderà. Ma non preoccuparti, lo aiuto io. Primo, vento, uno. Fuoco, lento. Come fai a essere il primo se il sigillo non è qui? Guarda, il mio bracciale dice... Sta dicendo... Ta-da! Qualche robente idea? Me ne andrò da qui e fermerò Xator! Ultimissima. Il fuoco non è così forte, dopo tutto. Non... Il fuoco non è così tanto... Il sigillo si trova lì Come arriviamo laggiù? Segui il mio piano Ascolta, sinistra, salto Sinistra, scivolo Salto, scivolo Che cosa hai detto? Sinistra, salto, sinistra Scivolo, salto, scivolo È il tuo turno? Allora, scivolo Poi sinistra, poi... Il tuo piano fa male al posteriore Wow, che cos'è? Dove siamo? Siamo precisamente dove dovremmo essere Nel tempio della prima regina del regno del ghiaccio Proprio di fronte al sigillo del ghiaccio Solo i glaciali riescono a rendere la grandiosità noiosa Da quella parte! Come fai ad essere sicuro che sia la stanza giusta? Credo sia proprio questa Guarda Kratos! Siete in ritardo, guardiani! Non riuscirete mai ad attivare quel sigillo Kratos di... No! No? Non esiste Non mi hanno rotolato, sbattuto, urtato e scaraventato in questo folle tempio del vento per niente Io non ti lascerò toccare quel sigillo Zottobo! Trek si è davvero arrabbiato! Aaron, pensavo seguissi le tracce di un sigillo Lo sto facendo! Guarda! Come ci riesci? A fare cosa? Che succede? Qualcuno è caduto? Sono io! Sto cadendo! Tranquillo, Trek Aaron fa solo... Il tempestoso Ragazzi, il sigillo! Seguitemi! Eccolo! E... Ta-da! Secondo il mio ultra bracciale, il sigillo è proprio lì di fronte! Dietro questa roccia? No, non c'è niente Non toccarla! Quello è il cuore del regno! La roccia in assoluto più sacra del... Ehi! Guardate lì! Il simbolo della roccia meca! E il sigillo è sicuramente all'interno! Ok! Quindi dobbiamo solo spaccarla e aprirla! Spaccarla? Ma... È il cuore del regno della roccia! La roccia più sacra del... Spaccalà! 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 Ma... Spaccalà! 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 Va bene! Horak, spacca il cuore! A quanto pare! Sì! Addio, cuore! Ja! Toro furioso! Oh! Il sigillo è proprio là! Grazie, Torak! Conosco bene questa miniera! Andrò io a cercare il sigillo! Voi intanto tenete Gredd occupato! Faremo ancora prima se vengo anch'io! Andiamo, Trek! Seguimi! Riff! Guarda! Il sigillo! L'abbiamo trovato! L'ho trovato prima io! Come vuoi! Ma adesso lascia fare a me! E se lo attivassimo contemporaneamente? Cosa? No! Ma perché l'hai fatto? Sopro! Siete tutti pronti? Corre Mecha in arrivo! Carre Mecha in arrivo! Gormiti, gormiti, raggiungibili, chi mi fermerà? The land is back, the legend is back. Gormiti! Gormiti!